Come ho attirato 20.000 dollari Nel laboratorio dell'esperienza in cui il mio rapporto appena rivelato con l'operazione divina stava per essere messo alla prova, il primo problema era di natura finanziaria. Il mio reddito era stato concordato ed era sufficiente per le mie necessità quotidiane, ma non era sufficiente per consentirmi di andare comodamente in Inghilterra dove viveva Troward e di rimanerci per un periodo indefinito per studiare con un così grande maestro come doveva essere lui. Quindi, prima di informarmi se Troward prendeva allievi e se in quel caso io fossi stata idonea, iniziai a usare il paragrafo che avevo memorizzato. Ogni giorno, in effetti, ogni ora, le parole erano nella mia mente. La mia mente è un centro di operazione divina e la divina operazione significa espansione in qualcosa di migliore rispetto a ciò che è già stato. Dalle elezioni di Edimburgo avevo letto qualcosa sulla legge di attrazione e dal capitolo di cause e condizioni avevo una vaga idea di come visualizzare. Quindi, ogni sera, prima di addormentarmi, creavo un'immagine mentale dei miei desideri. 20.000 dollari. 20 banconote da 1.000 dollari venivano contate ogni sera nella mia camera e poi, con l'idea di imprimere più enfaticamente la mia mente con il fatto che questi 20.000 dollari servivano per andare in Inghilterra a studiare con Troward, scrissi la mia immagine. Mi immaginai mentre acquistavo il biglietto per il vaporetto e camminare su e giù sul ponte della nave da New York per Londra e, infine, immaginai me stessa accettata come allieva di Troward. Ripetevo questo processo tutte le mattine e tutte le sere, imprimendo sempre più profondamente nella mia mente l'affermazione di Troward. La mia mente è un centro di operazione divina. Ho cercato di mantenere sempre questa affermazione nella parte posteriore della mia coscienza, senza mai pensare a come avrei potuto ottenere il denaro. Probabilmente il motivo per cui non c'era alcun pensiero sulla via attraverso cui il denaro sarebbe arrivato a me era perché non potevo immaginare da dove sarebbero arrivati i 20.000 dollari. Quindi mantenni semplicemente il mio pensiero costante e lasciai che il potere di attrazione trovasse i suoi modi e i suoi mezzi. Un giorno, mentre camminavo per strada, facendo esercizi di respirazione profonda, mi arrivò questo pensiero. La mia mente è sicuramente un centro di operazione divina. Se Dio riempie tutto lo spazio, allora Dio deve trovarsi anche nella mia mente. Se voglio questo denaro per studiare con Troward, per conoscere la verità della vita, allora sia il denaro che la verità devono essere miei, anche se non sono in grado di sentire o vedere le manifestazioni fisiche di nessuno dei due. Dichiarai, deve essere mio. Mentre queste riflessioni occupavano la mia mente, un pensiero sembrava crescere da dentro di me. Io sono tutta la sostanza che c'è. Poi, da un altro canale del mio cervello, sembrò arrivare la risposta. Naturalmente, è così. Tutto deve avere il suo inizio nella mente. Io, l'idea, doveva essere l'unica e primaria sostanza che c'è e ciò significa denaro come tutto il resto. La mia mente accettò questa idea e immediatamente tutta la tensione nella mia mente e nel mio corpo si sciolse. C'era una sensazione di assoluta certezza di essere in contatto con tutto il potere che la vita ha da offrire. Tutti i miei pensieri sul denaro, sull'insegnante o perfino sulla mia stessa personalità svanirono nella grande ondata di gioia che travolse tutto il mio essere. Continuai a camminare con questa sensazione di gioia che cresceva e si espandeva costantemente fino a quando tutto in me sembrava brillare di luce splendente. Ogni persona che incontravo era illuminata come lo ero io. Tutta la consapevolezza sulla personalità era scomparsa e al suo posto arrivò quell'immenso e quasi travolgente senso di gioia e di appagamento. Quella sera, quando creai la mia immagine dei 20.000 dollari, era con un aspetto completamente diverso. In occasioni precedenti, quando creavo la mia immagine mentale, sentivo che stavo risvegliando qualcosa dentro di me. Questa volta non c'era alcuna sensazione di sforzo. Contai semplicemente i 20.000 dollari. Poi, in modo un po' più inaspettato, da una fonte di cui non avevo alcuna consapevolezza a quel tempo, sembro aprirsi una possibile via attraverso cui il denaro sarebbe arrivato a me. In un primo momento ci volle un grande sforzo per non essere emozionata. Sembrava tutto talmente meraviglioso, così glorioso, essere in contatto con l'abbondanza. Ma Troward non aveva avvertito i suoi lettori di mantenere fuori dalla mente tutta l'emozione nel primo momento di consapevolezza dell'unione con l'infinita abbondanza? E di affrontare questo fatto come un risultato perfettamente naturale, che era stato raggiunto attraverso una nostra richiesta? Questo per me era ancora più difficile che mantenere il pensiero che tutta la sostanza che c'è sono io. Io, idea, sono l'inizio di tutte le forme visibili e invisibili. Non appena apparve la circostanza che indicava la direzione attraverso cui potevano arrivare i 20.000 dollari, non solo feci uno sforzo supremo per considerare la direzione indicata con calma, come fosse il germoglio del primo seme che avessi mai seminato, ma non lasciai nulla di intentato per seguire quella direzione completando la mia parte. Facendo così, una circostanza sembrava condurre naturalmente ad un'altra, finché, passo dopo passo, i miei tanto desiderati 20.000 dollari erano assicurati. Mantenere la mia mente controllata e libera dall'emozione fu il mio sforzo più grande. Questa prima realizzazione del mio studio della scienza della mente, come esposto nel libro di Troward, arrivò da un'attenta osservazione dei metodi che egli aveva delineato. A questo proposito, pertanto, non posso offrire ai lettori un regalo migliore che citare il libro di Troward, The Edinburgh Lectures, da cui potrebbe derivare un'idea completa della linea di azione che stavo cercando di seguire. Nel capitolo Cause e condizioni, egli dice, per ottenere dei buoni risultati dobbiamo capire correttamente la nostra relazione con il grande potere impersonale che stiamo usando. È intelligente e noi siamo intelligenti e le due intelligenze devono cooperare. Non dobbiamo essere in contraddizione con la legge aspettandoci che faccia per noi ciò che può fare solo attraverso di noi e dobbiamo pertanto usare la nostra intelligenza con la consapevolezza che essa sta agendo come strumento di un'intelligenza superiore. E poiché abbiamo questa conoscenza, possiamo e dobbiamo porre termine alla nostra ansia per raggiungere il risultato finale. Nella pratica reale dobbiamo innanzitutto formare la concezione ideale del nostro oggetto con l'intenzione definitiva di imprimerla nella mente universale. È questo pensiero che porta tale pensiero fuori dalla regione di semplici fantasie casuali e poi affermare che la nostra conoscenza della legge è un motivo sufficiente per una calma aspettativa di un risultato corrispondente e che pertanto tutte le condizioni necessarie ci arriveranno nell'ordine dovuto. Potremo poi ritornare alle nostre faccende quotidiane con la serena certezza che le condizioni iniziali sono già qua e presto saranno visibili. Se non le noteremo subito, possiamo stare tranquilli sapendo che il prototipo spirituale è già in esistenza e aspettate fino a quando qualche circostanza che punta nella direzione desiderata inizia a manifestarsi. Potrebbe essere una circostanza insignificante, ma è la direzione e non la grandezza che deve essere tenuta in considerazione. Non appena la notiamo dovremo considerarla come la prima germinazione del seme seminato nell'assoluto e con calma e senza agitazione fare quello che le circostanze sembrano richiedere. E poi vedremo che questo agire a sua volta porterà ad un'ulteriore circostanza nella stessa direzione, finché ci ritroveremo condotti, passo dopo passo, alla realizzazione del nostro obiettivo. In questo modo, la comprensione del grande principio della legge dell'abbondanza, dopo ripetute esperienze, ci libererà sempre di più dalla regione dei pensieri ansiosi e dal lavoro faticoso, per portarci in un nuovo mondo dove l'impiego utile di tutti i nostri poteri, mentali o fisici, saranno solo un aprirsi della nostra individualità sulle linee della sua stessa natura e, pertanto, una continua fonte di salute e felicità. In questo modo, la comprensione del grande principio della legge dell'abbondanza, dopo ripetute esperienze, ci libererà sempre di più dalla regione dei pensieri ansiosi e dal lavoro faticoso, per portarci in un nuovo mondo dove l'impiego utile di tutti i nostri poteri, mentali o fisici, saranno solo un aprirsi della nostra individualità sulle linee della sua stessa natura e, pertanto, una continua fonte di salute e felicità, un'induzione sufficiente, sicuramente, all'attento studio delle leggi che regolano il rapporto tra l'individuo e la mente universale. A mio avviso, allora come adesso, questa citazione illustra il cuore e il centro del metodo e della modalità di approccio necessari per entrare in contatto con l'abbondanza infinita. Almeno questo, insieme all'affermazione precedentemente citata, la mia mente è un centro di operazione divina, eccetera, ha costituito l'unico mezzo apparente per attirare a me i 20.000 dollari. Il mio sforzo costante per entrare nello spirito di queste affermazioni e di attirare a me questa somma necessaria durò circa sei settimane, al termine delle quali avevo nel mio conto in banca la somma richiesta di 20.000 dollari. Potrei trasformare questo in una lunga storia fornendo tutti i dettagli, ma i fatti già narrati vi daranno un'idea precisa sulla condizione magnetica della mia mente, mentre i 20.000 dollari stavano cercando il modo per arrivare da me.